Il progetto LGBT è stato ritirato dall'amministrazione comunale. La notizia, filtrata come indiscrezione già nella mattinata di venerdì, è stata confermata ufficialmente nel tardo pomeriggio con un comunicato ufficiale del sindaco Fracassi. Alla base della decisione, le diverse sensibilità fatte emergere da alcuni rappresentanti della maggioranza, dalle forze politiche che la sostengono e da una parte della città. Non volendola trasformare in un tema divisivo, l'amministrazione ha scelto di ritirare l'iniziativa Dentro l'Arcobaleno, inserita all'interno del più ampio progetto Far Bene per Star Bene. Si tratta del percorso che prevedeva alfabetizzazione LGBT, lettura di fiabe e testimonianze sul tema gender nelle scuole, iniziativa a cui si allega che Fratelli d'Italia si sono posti, portando l'assessore Barbara Longo a lasciare le deleghe alle pari opportunità nei giorni scorsi. Il progetto, peraltro, non aveva avuto grande adesione da parte delle scuole, ha sottolineato il sindaco, che in mattinata ha convocato il tavolo tecnico dello sportello antidiscriminazioni. Le stesse associazioni hanno chiesto di organizzare un incontro con la maggioranza per spiegare nel dettaglio la loro attività. Vince dunque la linea dei partiti, con il sindaco fracassico stretto al passo indietro per non indebolire ulteriormente una maggioranza piuttosto scricchiolante nell'ultimo periodo. Resta infine aperta la gestione delle deleghe alle pari opportunità. Barbara Longo ha compiuto un gesto raro scegliendo una linea distensiva, avverò un confronto con la maggioranza per gestire l'assegnazione, ha concluso il sindaco fracassi.